Devo riprendere il vaccino. L'immagrappare il vaccino. Grazie a tutti. 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 Oh, no, 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 no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci con te. Ora butta l'arma. Hai mai... hai mai visto una creatura così incredibile? E i suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Buona fortuna! Nicolai! 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 Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Ve la caverò. Ne sono certo. Ok. Sai una cosa? Ora ti ammazzo una volta per due. No, no, no. No Ona! Non hai?